E' importante che lui sta rilassato e specialmente che la sua schiena sia rilassata. Sì, indietro un po', sì. Perché voglio cominciare... Oh, no, I meant to be speaking in English. Ah, no, you should go to the other side. Allora, questa posizione adesso già sento che lui è un po' bloccato qui nel sacro. Infatti, io uso questo lavoro spesso con gli uomini, non solo con le donne incinte, perché è quasi il modo più adeguato per arrivare a un rilasciamento vero di questa zona del Daimai e di tutto il Daimai, infatti. Giovanni, va bene per te? Specialmente con questo contatto dietro e anche sotto. Vedi che è un po' bloccato e sto incoraggiando di muovere. E mia mano è piuttosto così. Forse non esattamente contro, ma in questa zona più o meno. È piuttosto una connessione più generale, soprattutto per cominciare. E anche ieri con i Chong Mai si può cominciare solo con una connessione generale prima di fare questo. Però si vede che non vuoi molto muovere. Però dimmi se sempre non sta bene, perché certo per i ginocchi, anche per la persona con cui lavora, è importante. Scusa, devo tradurre prima? No, io devo tradurre che cosa ha detto lei. Allora faccio una piccola rotazione, ma devo stare attenta di sempre muovermi dal mio ara. Ma è una rotazione di tutto il corpo, infatti. Forse un po'... Di fare un po' il movimento che abbiamo fatto noi. Adesso di incoraggiare e di ponere le mani. Adesso 27, 28, no. Sì, e il 29 anche, un po'. Sì, va bene. Adesso, a volte, sì, muovendo questi punti, c'è un po' il movimento, no? Adesso si vede, ah, molto meglio. E forse nell'altro senso. Ah, sì. Sì, anche lui sta facendo il movimento, molto importante di fare così. Ok. E a un certo momento posso rilassare. E forse sì, è vero che meglio i ginocchi below the hips. Maybe come out back. I ginocchi proprio sotto le anche. Sì, è più stabile. And important to make the connection with the front and the back, the abdomen and the sacrum. fare questa connessione tra l'addome, la parte anteriore e la schiena. Durante la gravidanza questa è una bella posizione, specialmente quando il bambino è già abbastanza grande, allora nel secondo, terzo trimestre non è che sarebbe pericoloso nel primo, ma è più importante, più adeguata per il secondo e terzo trimestre quando il bebè diventa un po' pesante. E per la donna, forse dico questo in italiano, sì, per sostenere il peso del bebè, spesso ho le mani così, perché per la donna incinta devi vedere che non c'è un piegamento in questa zona e che non vado a dare molta pressione in questa zona. Forse fare una connessione energetica, però non con pressione, perché non è buono per la schiena. Però questa zona sì, quindi vediamo per lui, adesso ho fatto queste connexioni, adesso vado a cominciare a fare pressione. Ah, devi vedere, c'è una differenza tra la schiena e la direzione. Oh no, ok, I'll say it in English. Sinistro. So we feel also, maybe the two sides, if there's a difference between the left and the right, and it's a great position for working, because can you see, my hara is just completely where I'm working, so I just drop my weight. da questa posizione, prima possiamo sentire una differenza tra sinistra e destra e questa posizione è anche molto comoda per lavorare, perché è facile appoggiarsi col movimento dell'ara. allora questi sono due movimenti per rilasciare l'articolazione ilio-sacrale, e l'uno è per aprire e l'altro è per portarlo insieme, ma mostrerò in un momento. So this is the opening. Questa è l'apertura. e per l'altra, i mani rimangono più o meno al stesso posto, all'articolazione sacroiliaca, ma dall'altra direzione e il movimento va verso il centro. Adesso con lui sento che è aperto un po', e spesso con le persone è uno dei due movimenti che è meglio. È importante anche per la persona di dire se non sta bene, perché forse l'attenzione è anche causata dalla posizione, non tutti sono bene in questa posizione. Dunque va bene Giovanni? Sì? Sì? Ok. La barbara? Come? La barbara? Sì, no. Dissi non sta bene, e anche barbara. Quindi un po' di pressione è importante verso i perpendicolari, però se c'è molto, c'è sempre un po' tozionata, forse un po' anche verso i piedi. Anche sto cambiando perché è un po' schilibrato, così. Ok. Adesso vediamo i punti. E Alessandro va a mostrare dove sono i punti. Sì, è molto bloccato. Qui. E anche questo. La Hala è utilizzare il sacro. Il Hala sia così o sia così. Questo è meglio per me così. E spesso si può cominciare, forse di massaggiare anche un po', di sentire dove sono esattamente i punti. I cocci. Va bene sempre, barbara? E dopo è l'idea certo di equilibrare il più possibile tra la sinistra e la destra e tutti i punti. Quindi l'ordine è secondo lo che si sente. E spesso, infatti, per lui si vede, bisogna molta pressione e con le dite non è tanto bene per i miei diti. Quindi, si può fare anche con i... Non è troppo? No? Ok. Scusate. E di stare un po'. Questa è sempre la preparazione, infatti. di cominciare, di muovere l'energia. Anche c'è un movimento con... Questo. Il movimento di cercare di circulare, di regolare l'energia tra i punti. non si vede bene? Sì. Spostarsi, è vero, è difficile vedere. Forse perché loro possono vedere. Io sto dimostrando dietro di te. Ah, ok. Questo movimento piuttosto yang. E dopo, penso che... Per lui, ok. Devo andare un po' qui. Lice, ok. Anche... Ecco. Vediamo. Va bene? Quella hando e utilizzando. Quindi è un lavoro... Come c'è spesso molto stagnazione, è un lavoro molto potente. A volte passo venti minuti a fare questo. Ascoltare i punti, quanto tempo devo rimanere. Rifacendo, vedendo la combinazione che va bene. Si può fare questo con il cliente in prona, però non ha la connessione davanti. Ah, comincia la boccia. E non hai tanta possibilità di muovere. Quindi l'ordine dei punti è secondo lo che si sente. Sì? Così è facile per me, però posso dare un grande pressione. E anche questo con le donne incinte, al final, loro dicono, ah, puoi dare ancora un po' più di pressione. Perché le stagnazioni con il baby... Sì, esattamente. Questo aiuta molto, molto, molto. Perché, certo, anche con il connectato con la vescica, comincia a rilassare. Posso fare ancora di più, però voglio lasciare un po' di tempo per voi di fare questo lavoro. Però, quando faccio molto lavoro, qui, ok, lo diciamo in inglese. A lot of energy is released and starts to flow and it's really important to help the body integrate it. Allora, se faccio questo lavoro, comincia a rilasciare tanta energia e l'energia comincia a fluire, allora è importante, prima di finire, di integrare questo lavoro. Di permettere al corpo di integrarlo. Yeah. so it's really important and this is why you might need to do it in a few stages, doing a little bit swapping and then having a pause because we need to integrate it also with the yin, with the front. and help the movement between the upper and the lower body. so that we might need to come and hold gallbladder 41. So we don't always have to start with gallbladder 41. We might integrate it a bit further into the treatment and again to support the yin, maybe holding kidney one and that also supports the connection with the penetrating vessel. Allora potrei anche entrare in un contatto con Rene 1 che è anche yin e questo può aiutare il contatto ma anche la connessione tra parte alta e parte bassa con l'altra mano sull'addome. indietro Giovanni come si dice si basso si no lui lui è meglio così anche forse senza te si 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 così così anche con le braccia si come sta così si a volte è anche per mostrare per voi si anche con il sostegno forse si sente e anche certo questo aiuta ok ho cambiato perché lui ha cambiato però sento l'importante di fare la connessione con il cervello il sacro una connessione generale per cominciare però forse si pone connessione con vessica 10 e quindi adesso non con molta pressione solo per fare una connessione energetica per l'integrazione del lavoro o forse i due e faccio i due vessica biliare 20 20 il hara sempre tra i due o rene rene sempre infatti le connessioni che abbiamo fatto ieri ma è importante aiutare l'integrazione tra alto e basso e forse certo avrei potuto anche fare dall'altro lato però non posso per la camera ma vedi che anche posso solo sostenere i piedi così fare connessione tra l'alto e il basso sì e anche però faccio questo velocemente si può anche fare una connessione però più lento con dai mai do mai scusate di scendere un po' però penso che è sufficiente per lui infatti però è molto potente e bene di fare aiutare l'integrazione grazie quindi ero sì ha spesso anche sì certo non è solo questa sessione perché l'integrazione può essere un po' più qui qui molte altre cose però forse è bene che Giovanni dica qualcosa sulla posizione perché è importante che vuoi ascoltare anche gli altri per le posizioni di scendere